ciao e grazie per essere venuto a trovarci alla maker fair io sono francesco insieme a eduardo e andrea ci siamo inventati gli snetti insetti si è sentito proprio bene infatti noi facciamo dei cracker con un 15 per cento di farina in grillo abbiamo deciso di utilizzare grilli perché hanno tantissime proprietà innanzitutto un alto contenuto di proteine complete e sostenibili realmente sostenibili di vitamina b12 e di diversi minerali e poi vabbè nostri snack hanno un gusto assolutamente buonissimo ma non siamo solo noi a dirlo abbiamo anche vinto diversi premi quindi se vuoi provare qualcosa di assolutamente insolito e di nuovo ma allo stesso tempo molto salutare e fare anche qualcosa di ottimo per il pianeta non devi fare altro che scoprire qua sotto che cosa abbiamo da proporti ciao a sono croccantissimi